Buongiorno, in questa lezione andremo a esaminare un tema di grandissima attualità ed è il dibattito pubblico, di grandissima attualità perché basta pensare a tutte le opere che sono state programmate e non si sono realizzate in Italia perché non c'era il dibattito pubblico, perché non c'era stato una sufficiente coinvolgimento dei cittadini, dalla più famosa NOTAV, quindi la famosa TAV alta velocità del Piemonte, ma al degassificatore di Brindisi, adesso al gasdotto che passa per gli oliveti pugliesi con gente abbracciata a ogni olivo che non vuole far strappare, non li sto prendendo in giro, forse se fossi pugliesi ci sarei abbracciato l'olivo. Tutte queste opere sono nate senza nessuna forma di coinvolgimento della comunità locale. Cos'è un dibattito pubblico? Il dibattito pubblico è uno strumento di partecipazione alternativa che permette a cittadini ed abitanti di un dato territorio di pianificare, essere coinvolti, partecipare all'iter di grandi provvedimenti. Questo a che serve? Serve a garantire un'ampia e chiara informazione dell'intervento e a far sì che ogni cittadino possa da solo con gruppi organizzati dire la sua, molto semplice. Quindi il dibattito pubblico è un modo in cui i cittadini possono partecipare a grandi opere che li coinvolgono, prima che queste grandi opere siano del tutto decise, perché poi dopo non è solo comunicazione, poi dopo non è il dibattito pubblico, il dibattito è quando le cose si stanno costruendo, siamo nel liter di questa costruzione e possono avere informazioni chiare e definite dall'autorità che le certifica, informazioni chiare su questo intervento. Vi faccio un esempio che ho seguito, il degassificatore di Brindisi era un progetto fatto dalla British Petroleum che si proponeva di far tornare gas il gas liquido che arrivava, il GPL che arriva attraverso grandi cisterne, grandi navi cisterne. Cosa serve per il Paese? Non dipendere esclusivamente dai grandi oleodotti e gasdotti che possono subire delle improvvise blocchi anche per cause belliche o per cause di terremoti o per cause di disastri. La nave cisterna è più sicura, porta GPL e questo GPL deve tornare gas, per tornare gas torna gas in un grande impianto. Il grande impianto non si è riuscito a realizzare per un'opposizione violentissima sia della popolazione sia della politica locale, nessuno in questo grandissimo dibattito è riuscito a convincere i cittadini su cosa era questo strumento, dato che il degassificatore non è una cosa che troviamo tutti i giorni come il colapasta, dobbiamo sapere che cos'è, qualcuno di cui ci fidiamo ci deve raccontare che cos'è, con il dibattito pubblico serve proprio a questo, serve raccontare per bene ai cittadini abbattendo quella che i tecnici chiamano la simmetria informativa, quindi rimettendo simmetrica l'informazione, cioè che sia i cittadini, sia chi deve realizzare l'opera, sia l'amministrazione, tutti e tre questi soggetti abbiano le stesse informazioni, è chiaro che per i cittadini le informazioni non devono essere talmente tecniche che non essere comprensibili, un dibattito pubblico spiega esattamente ai cittadini che sta succedendo e li mette di fronte la possibilità di scegliere, anche contemperando gli interessi, la parola chiave del dibattito pubblico è trade off, un modo se volete bilanciamento dei vantaggi e degli svantaggi, è chiaro che avere un'autostrada vicino casa è un grande vantaggio perché porta ricchezza, porta turismo, porta connessione, porta i cittadini di quel posto a essere meno isolati rispetto a tutto il resto del paese e è certo che porta degli svantaggi e probabilmente non si riescerà a eludere un certo rischio ambientale, quindi avrà un certo impatto ambientale non positivo, avrà un impatto paesaggistico che per quanto cerchiamo di farlo il meno grave possibile non possiamo dire che un'autostrada è bella quanto un prato e quindi avrà comunque un impatto dal punto di vista paesaggistico, qual è il punto? Che non deciderà più la società autostrada insieme con l'amministrazione pubblica ma ci sarà un terzo soggetto che sono i cittadini della comunità locale che sarà da subito, da prima, al momento che si progetta quest'opera sarà chiamata a dire la sua, ovviamente mettendo in campo per questa comunità locale svantaggi e vantaggi in maniera onesta. Chiara e percepibile da tutti. Ve lo dico perché ho voluto fare questa premessa un po' lunga perché a volte quando si parla di dibattito pubblico non c'è chiaro esattamente cos'è. Un buon dibattito pubblico ci mette in condizione di fare delle opere che non dico che troveranno tutti d'accordo, perché tutti d'accordo non esiste, ma troveranno una comunità locale perlomeno preparata agli svantaggi che trova ma anche molto pronta ad accoglierne i vantaggi e adesso soprattutto consapevole di quello che sta succedendo. Non ce lo siamo inventati noi il dibattito pubblico, c'è in tutta Europa. Il paese che ne è stato capofile è la Francia, è obbligatorio dal 1995 in Francia, si è creata una commissione nazionale du débat pubblico che è una commissione molto importante, indipendente dal governo, molto importante, un'autorità diremmo noi in Francia che può decidere i dibattiti pubblici, decidere cosa viene messo a dibattito o no, ma può decidere anche l'esito dell'opera, se non è convincente il dibattito pubblico l'opera potrebbe anche essere bloccata e quindi non farsi, quindi capito di importanza, quindi stiamo imparando da loro, il dibattito pubblico nasce in Italia con la legge delega sui contratti pubblici, quindi il famoso codice degli appalti, è un decreto legislativo che nasce dalla legge delega 11, questa legge delega 11 del 2016 che noi facciamo per recepire le direttive europee 23, 24 e 25 del 2014 e quindi delle direttive che già ci imponevano di cambiare il nostro modo di fare gli appalti, soprattutto per le grandi opere, questa legge dice che chiede l'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali, dei territori interessati alle realizzazioni di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale che hanno impatto sull'ambiente, le città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione online dei progetti, di tutte le loro caratteristiche e poi degli esiti della consultazione pubblica, quindi già la legge delega mette i punti fondamentali, il codice degli appalti lo dettaglia meglio e quindi definisce meglio quali sono le grandi opere infrastrutturali di architettura che hanno bisogno di un dibattito pubblico, delega il Ministero delle Infrastrutture a decidere quali sono queste opere e lo delega anche a emanare un decreto che ancora non è uscito, un decreto di attuativo che ci spiegherà esattamente come il dibattito pubblico in Italia sarà fatto, però già alcuni punti sono chiari in questo decreto il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dovrà obbligare tutti gli enti aggiudicatori, quindi gli enti che devono materialmente realizzare l'opera a pubblicare in maniera chiara tutti i progetti di fattibilità e quindi questi progetti di fattibilità non devono essere più conosciuti esclusivamente dall'ente appaltante, quindi non so, dal Ministero stesso o dallo Stato o dalla Regione o da un Comune, ma devono essere conosciuti anche dai cittadini in una forma chiara, comprensibile sui siti Internet. Sulla base di questi l'amministrazione aggiudicatrice, cioè quella che ha indetto l'appalto e gli enti aggiudicatori, quindi gli enti e le amministrazioni, le società private che dovranno realizzare materialmente l'opera, dovranno mettere in piedi il dibattito pubblico e sono obbligati a mettere in piedi il dibattito pubblico coinvolgendo i portatori di interessi, chi sono i portatori di interessi? Ad esempio i comitati di cittadini, i comitati di stakeholders di una particolare regione, ma anche per esempio i produttori, nel caso specifico del gas d'otto di cui parlavamo prima che passa attraverso l'oliveto, probabilmente l'associazione o i singoli agricoltori o olivicoltori e viticoltori di quelle zone saranno chiamati a essere parte in causa in questa decisione. Sulla base di questo si arriva poi a una definizione del dibattito pubblico che nasce sulla base della trasparenza, non può che nascere sulla base della trasparenza. L'articolo 22 del codice degli appalti, così come è stato modificato nell'ultimo correttivo, ci dice chiaramente che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano nel profilo del committente i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali, nonché gli esiti della consultazione pubblica. I contributi e i resoconti sono pubblicati con pari evidenza unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione relativi agli stessi lavori. Quindi qui è previsto nel codice degli appalti che accanto ai documenti tecnici che descrivono il progetto e che devono essere comunque pubblici e conosciuti da tutti, devono essere altrettanto pubblici e conosciuti da tutti, tutto l'iter della consultazione del dibattito pubblico e le sue conclusioni. E quindi tutto il processo deve essere un processo trasparente, un processo centrato sul contemperare degli interessi dei tre soggetti in gioco, il soggetto che ha immaginato l'opera, che è la politica e quindi è l'ente centrale e locale, è l'amministrazione centrale e locale che ha individuato l'opera come prioritaria, la società che la dovrà costruire, che quindi ha gli studi di fattibilità, la progettazione degli studi di fattibilità e deve raccontare con trasparenza e in maniera comprensibile per tutti come quest'opera si è realizzata, quali saranno i suoi impatti dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale. Molto spesso si sottovalutano gli impatti dal punto di vista sociale, ma fare un grande centro commerciale in una periferia agricola di una città non ha solo un impatto ambientale, ha un fortissimo impatto sociale, crea nuove aggregazioni, crea nuove rete relazionali, crea nuove strutture positive di attrazione di merci, ma anche di attrazione di novità, di attrazione di ingegni, di costruzione di aziende innovative accanto, nello stesso tempo crea probabilmente la distruzione e il ridimensionamento di tutta la piccola impresa commerciale. Questa analisi di impatto sociale insieme all'analisi di impatto ambientale deve essere chiaramente indicata perché i cittadini possano scegliere e possono scegliere anche il politico che dichiara i valori a cui i cittadini sono più affezionati. Ci sono città che stanno lavorando intensamente per abolire i centri commerciali e aumentare fortemente il ruolo dei mercati rionali. Vi faccio l'esempio di Teorino in cui questo è stato una delle azioni nel programma elettorale della sindaca attualmente eletta, meno centri commerciali più mercati rionali. E' questo quello che vogliamo? La popolazione deve essere in grado di decidere, non dico che sia meglio questo di quell'altro, probabilmente nel mercato rionale l'eccellenza non la troverai, troverai un certo tipo di eccellenza ma non l'eccellenza magari nel design o l'eccellenza nella tecnologia, è una scelta, probabilmente il mercato rionale non raccoglie intorno a sé il meglio delle aziende innovative ma crea reti relazionali diverse, non voglio entrare se è una scelta migliore o nell'altra, ma l'amministrazione pubblica è costretta a esprimere in maniera chiara quali sono gli impatti economici, sociali ed ambientali di un'opera e discuterle con la popolazione che poi sarà quella che ne pagherà o ne usufruirà o ne aggiorirà delle conseguenze positive e pagherà le conseguenze negative. Finisco con due esempi francesi, anzi tre esempi francesi, in Italia ancora non esiste una commissione per il dibattito pubblico, né esiste un sito in cui si possono guardare i dibattiti pubblici, ma se voi andate a guardare il sito della commissione nazionale del dibattito pubblico www.debatspublic.fr, abbastanza facile da trovare, avete uno spaccato estremamente interessante delle opere che sono messe nel dibattito pubblico, vedo davanti in questo momento un progetto per una centrale eolica galleggiante a largo dell'isola del Grisson, l'isola di Grisson per chi non sa che cos'è, è l'isola che sta sul mare davanti a Carcassonne, nel sud della Francia, quasi al confine con la Spagna, è un posto bellissimo peraltro, il progetto prevede l'installazione a largo delle coste di Grisson di una grande centro eolico galleggiante per una potenza totale di 24,6 MW, costo di 175 milioni di euro, se voi andate a guardare questa pagina andate poi a scorrere, c'è la spiegazione esatta di che cosa si farà, i disegni di quale situazione sarà l'opera, l'impatto ambientale che quest'opera provocherà, i vantaggi che porterà al territorio circostante e su questo si sta lanciando una concertation raccomandée en cours, quindi è in corso una concertazione che porterà tra poche settimane al primo dibattito pubblico su questo. Capite che da noi avremo infiniti articoli sui giornali, infinite comunità locali che saranno sulla spiaggia a protestare con cartelli no pale invece che no tav, ma probabilmente nessuno saprà esattamente che cosa si sta costruendo, che patti effettivamente avranno e quali saranno le oggettività, allora ci muoviamo sulla pancia e non sulla testa, il dibattito pubblico vuole riportare queste grandi scelte del paese, le vuole riportare nella testa dei cittadini e non sulla loro pancia.